Buonasera a tutti. Come è stato già anticipato, ho rimesso il mandato che mi era stato conferito la Presidente della Repubblica Magdalena di formare il governo del cambiamento. Ringrazio la Presidente della Repubblica per aver conferito il mandato il 22 maggio scorso e ringrazio gli esponenti delle due forze politiche, Luigi Di Maio per i Cinque Stelle e Mario Savini per la Lega, per aver indicato il mio nome. Vi posso assicurare di avere profuso il massimo sforzo. La massima attenzione per addendere a questo compito e vi posso assicurare di averlo realizzato nel clima di piena collaborazione con gli esponenti delle forze politiche che che vi hanno presentato. Grazie a tutti.